La Mesquala Baschettarezzo reagisce nel migliore dei modi alla sconfitta subita con la legnaia, andando a compiere l'impresa sul campo della capolista e d'imbattuta Virtus Siena per 95 ad 81. Gli Amaranto partono subito forte, aggredendo la partita con quella determinazione che si era vista solo a tratti in questo inizio di stagione. Dopo 5 minuti la Sba si trova in vantaggio sul 16-8, poi è l'ex Lenardona a rimettere in carreggiata la propria squadra in un primo quarto scintillante che si chiude sul 26-25 per l'Arezzo. Nel secondo tempo è un continuo botta risposta tra i due attacchi, l'Amen mette a referto 6 triple su 9 tentativi e va a riposo sul 51-40 grazie ad un guizzante Ghini e ad un gioco di squadra che ha premiato i realizzatori Amaranto, Cutini, Rossi e Tenev. A rientro in campo l'Amen tocca il massimo vantaggio sul 54-40, poi punto dopo punto inizia la rimonta della Virtus, trascinata da un super Nepi. Con 10 punti realizzati di fila la capolista Siena guanta per la prima volta la parità a quota 63, ma nel peggior momento della sua partita la Sba trova quelle energie necessarie a non permettere mai il sorpasso agli avversari, con un piazzato di Cutini e una tripla di Tenev. Così l'ultimo quarto inizia sul 68-65 in favore dell'Amen che tiene duro perché Nepi è l'ultimo ad arrendersi nei padroni di casa, trovando dei canestri davvero leader. In difesa arrivano un paio di recuperi preziosi che sanciscono la vittoria finale della squadra di Coach Millie che meritatamente trova il successo per 91-85, due punti che non serviranno per raggiungere uno dei primi due posti in classifica ma che fanno morale, dimostrando che il quintetto aretino potrà togliersi ancora tante soddisfazioni in questo campionato se metterà in campo la concentrazione e la determinazione vista sul parche senese. Il prossimo appuntamento per l'Amen è in programma per sabato 10 aprile alle 18.30 quando al Palasport Estra arriverà la Synergy Valdarno, sconfitta nell'ultimo turno dalla Fides Montevarchi ed appaiata a quota 4 punti in classifica alla compagine aretina.